buongiorno oggi sono a givoletto più precisamente in via rubaiano 11 vi faccio vedere questo nuovissimo appartamento ancora da completare come vedete che una volta completato sarà in classe energetica a il che vuol dire che ha bassissimi consumi di corrente e bassissimo impatto ambientale questa è la camera da letto principale con un'ampia vetrata qui abbiamo la seconda camera come vedete il riscaldamento sarà a pavimento abbiamo il bagno molto grande l'appartamento sarà completamente alimentato a energia solare perché sul tetto saranno presenti i pannelli fotovoltaici qui abbiamo il soggiorno ancora anche questo con un'ampia vetrata e l'angolo cottura se volete avere informazioni su questo appartamento sui costi e i tempi di consegna contattatemi a presto